L'intervistatore è piuttosto che chiedergli Ma scusa, come? Cioè, come non fai più match? Come soltanto con Alireza? Non ho capito. Cioè, si qualifica Caruana, tu non giochi con Caruana? No, ti chiede. Beh, allora sti 2009 li prendiamo? Che dici? Karsen ha minacciato di non difendere più il titolo di campione del mondo di scacchi se non gioca contro Alireza Firucia. Traduzione dall'inglese, quindi farò questo doppio passaggio incredibile norvegese-inglese-inglese-italiano, meglio di Google Translate della intervista fatta a Karsen, appunto. La prima domanda è ti ritirerai dopo il campionato del mondo? No, è importante per me non ritirarmi dagli scacchi. Mi dà ancora un sacco di gioia e una delle prime cose che ho pensato subito dopo il match è che non vedevo l'ora di giocare il Rapid e il Blitz si intende sempre campionati del mondo. L'ho detto tante volte, il match per il campionato del mondo non è sempre stato divertente, soddisfacente per me. Quindi avevo chiaramente in testa che questo match sarebbe stato il mio ultimo. Già questa cosa, secondo me, è molto forte. Ha bisogno di nuovi stimoli perché quelli sono fondamentali, no? Avendo vinto già cinque volte, lo abbiamo visto anche alla fine, non è che ha esultato, comunque era chissà quanto emozionato, chiaramente felice di aver vinto, però era quasi una cosa scontata ormai. Allo stesso tempo il match arriva con una grande pressione e sono più le cose negative magari che ne vengono fuori di quelle positive. Sì, esatto, e adesso non ho percepito che le cose positive abbiano superato quelle negative. E adesso mi piacerebbe fermarmi finché sono, diciamo, in vetta. L'unica cosa che è cambiata da quando ho iniziato a pensare di ritirarmi è quello che è successo nel Grand Suisse, quando Alireza si è qualificato per il torno dei candidati. Quando questa cosa è avvenuta, si è materializzata l'idea che avrei potuto giocare contro Alireza in un match. Questo mi ha dato una sorta di motivazione. Se gioca qualcun altro, c'è una chance molto bassa che io possa giocare il prossimo match. Però, se c'è Alireza, allora potrei giocare. La cosa divertente dell'intervista è che l'intervistatore, piuttosto che chiedergli, ma scusa, come? Cioè, come non fai più match? Come soltanto con Alireza? Non ho capito. Cioè, si qualifica Caruana, tu non giochi con Caruana? No, ti chiede. Beh, allora sti 2009 li prendiamo? Che dici? La citazione che è stata un po' rimbalzata ovunque è che se qualcun altro diverso da Filucia dovesse vincere i candidati, sarebbe improbabile che io possa giocare il prossimo match per il titolo mondiale. E nel caso in cui Abdi casse questa persona, cosa succederebbe? Hammer ha messo un tweet in cui parla delle regulation vere. Se Magnus decide di non giocare il match nel 2023, il vincitore dei candidati non sarà dichiarato campione del mondo. Ah, ecco. Se la FIDE segue le stesse regole di quest'anno. Il match del campionato del mondo si svolge tra il campione del mondo, Magnus Carlsen, e il suo sfidante, il vincitore dei candidati. Se il campione del mondo o lo sfidante si ritirano per qualsiasi ragione, sarà sostituito dal secondo classificato nei candidati. Se sia il campione del mondo, quindi sia lo sfidante, si ritirano, allora va presa la media ELO da 12 rating list da agosto, quindi a luglio, e si qualifica il giocatore per ELO, quindi con la migliore media. In caso di patta il rating si calcola sul secondo cifra decimale, ok? In caso di patta ulteriore il giocatore con il maggior numero di partite giocate rated durante il periodo. In caso di patta ulteriore ci apriamo un ciringhito sulla spiaggia. Poi c'è da dire anche una cosa. Carlsen, nonostante abbia provato in diverse occasioni, non è neanche mai arrivato vicino a qualificarsi per i candidati, tra virgolette, no? Se togli l'ELO non è mai arrivato vicino, no? Quindi questa comunque in teoria è una cosa che uno dice, no vabbè, ok, vuoi togliere il titolo, no? Vuoi fare tanto lo sborone, però poi in realtà... Se lui c'è arrivato per ELO, quindi non aveva bisogno magari, no? Di vincere nessun torneo. Cioè, hai già un requisito, non devi impegnarti a mille, no? Per raggiungerne altro, diciamo. Quindi Alireza Firucia, che ha vinto tra l'altro l'Ignazwiss, come noi ben sappiamo, e poi ha ben performato nel campionato della tua squadra, insomma, è l'unica persona che Carlsen sfiderebbe. E tra l'altro ha detto che uno degli obiettivi futuri che c'ha Carlsen non è tanto quindi riconfermarsi campione del mondo, perché tanto ormai deve soltanto aggiornare la sua bio su Instagram, ma vorrebbe arrivare a 2.900 punti ELO. Sarebbe il primo, assolutamente, nella storia a raggiungere questo importantissimo traguardo. Il problema, però, di arrivare a 2.900 punti ELO, ovviamente qual è? Dovrebbe battere in modo continuato un bel po' di persone over 2007, che non è mica, comunque, una roba facile. E qui, secondo me, scatta la domanda. Secondo voi, Carlsen arriverà mai nella sua carriera a 2.900 punti ELO? Allora, è difficile perché comunque ogni patta perde, no? Va sempre a perdere. Siccome le patte sono quasi il risultato maggiore, diventa complicato. Credo che la sua scelta sia dovuta al fatto che lui ha dimostrato di aver battuto un po' i giocatori, diciamo, come Ananda, no? Quindi della generazione precedente. Poi ha battuto i giocatori della sua generazione, Kariakin, Karuana, Nepomniachi. E ora, secondo me, se riesce a battere Firuja, anche, no? Magari il campione della futura generazione. Vuole magari rappresentare il campione più forte veramente di tutti i tempi, no? Vuole dare proprio un messaggio chiaro. Anche se, secondo me, a Firuja manca una qualità fondamentale per diventare campione del mondo. Magari lo diventa lo stesso perché calcola in un modo impressionante, però la percezione che ho avuto è che lui abbia un problema con i finali. Questo è un finale preso dal Norway Chess 2020 e prendendo l'opposizione si patta anche col pedone in meno, fondamentalmente, perché c'è il re dietro. Morale, da questa posizione, opposizione, opposizione, bla bla bla, soltanto che a un certo punto Firuja decide di non prendersi più l'opposizione. Sai che c'è, caro Magnus? Prenditela d'opposizione e perde sto finale così. Cioè, è assurdo, secondo me. Carlsen non avrebbe mai perso un finale di pedoni che tu lo dai a uno che sta studiando, uno che ha neanche 1500 puntiello, però che sta studiando i finali. E lui dici, questo lo sa giocare. E invece Firuja è stato in grado di sbagliarlo. Secondo me, anche con 10 secondi sul loro doggio, un grande maestro di quel calibro non dovrebbe sbagliarlo. Per questo dico che non ce l'ho perduto. Il nebomiascio non mi deve lasciare i pezzi in presa. Sono cose che capitano, dai. Si può sorvolare su sta cosa. Ma poi uno dice, vabbè, è successo quando era ragazzino, figurare adesso, oh, è successo l'anno scorso, Norway Chats 2020. Ma è ancora un ragazzino? Ma restiamo umani. Sono esseri umani, sono ragazzi umani. Non è essere così critico. Un altro tweet. Perché abbiamo Anish Giri, signori. Lui fa un tweet e ruba la scena completamente. Mike dropped e basta. Perché dice, sto pensando di non twittare più, a meno che non mi taghi Magnus Carlsen. La motivazione non è più la stessa. Voglio lasciare i social media, visto che sono al mio picco. E nella mia pensione voglio concentrarmi sulla mia carriera di scacchista. Bravo, bravo, bravo Anish Giri. Hai fatto un signor tweet. Quindi facendo un piccolo riassunto, questo mondiale è finito. Magnus aveva vinto, è diventato campione del mondo. A quel punto Karia che cerca di rubare la scena come se fosse una palla. Ma questa palla viene rubata da Magnus stesso che dice, no, io mi ritiro se non c'è il fiducio perché voglio 2.900 punti. E alla fine vince tutto Kiri.